ma dov'è l'america dopo l'oreto più lontano allora devo passare a macerata no no di più di più ho capito dopo cingoli guarda la strada è quella giusta se la vedi cominciano camminate mamma mia Mamma mia, dammi cento lire che in America voglio dare. Cento lire che in America voglio dare, i suoi fratelli dalla finestra, mamma mia, lascerà andare. Vai, vai, pure un'iglia in grado a che qualcosa succederà. Quando furono presa un mare, il bastimento si scopo, un pescatore che pesca in pesci, la mia figlia vantò a pescare. Il mio sangue è rosso e fino ai pesci del mare lo bemerà. La mia gambe bianca pura la valera la manderà. E così io dalla mia mamma l'era tutta la verità. Mentre quello dei miei fratelli resta quello che manca da. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.